I vigili del fuoco sono stati impegnati la scorsa notte per un incendio di un'abitazione in Sestiere Canareggio davanti a Cadoro a Venezia. Quattro persone tra cui due bambini sono rimasti intossicati e trasferiti successivamente in ospedale per aver respirato del fumo. L'intera abitazione di Trepiani è stata evacuata. I vigili del fuoco arrivati con due autopompe lagunari e successivamente con altre due squadre da mestre con 20 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere le fiamme ed evitare un incendio generalizzato. Sono corse poi le operazioni di bonifica delle travi coinvolte nell'incendio. Le cause del rogo sono ancora al vaglio dei tecnici.